La piattaforma Stendhal che non solo mette insieme queste enorme mole di dati, cerca di non farci perdere, nel senso restituisce una serie di informazioni che speriamo siano utili per la pianificazione dei territori, delle imprese e per la gestione aziendale. Noi crediamo molto nei dati, ovviamente la nostra filosofia non è tanto il dato in sé ma la lettura del dato a 360 gradi mettendo insieme diversi lati, lato domanda, lato offerta, per cercare di capire. Io dico sempre, la maggior parte delle volte voi conoscete meglio di tutto il territorio e i dati ci confermano soltanto quello che è l'andamento, altre volte occorre puntare la lente di ingrandimento verso quei dati che fanno un po' da fanalino su delle micro tendenze che poi negli anni si possono rilevare, dei veri e propri fenomeni che comunque vale la pena rilevare, governare per non subirli. Abbiamo visto che il mondo del turismo sta cambiando, i turisti sono cambiati, c'è stata la spinta propulsiva della pandemia che ci ha fatto trovare davanti non più il turista che viene alla ricerca soltanto dei prodotti hard delle nostre destinazioni italiane, cioè mare, montagne e città, ma abbiamo visto un turista che pian piano, sempre più giovane, soprattutto straniero e sempre più adulto italiano, quindi si è creata questa polarizzazione, si affaccia ai territori volendo vivere un'esperienza a 360 gradi per cui noi pensiamo che conoscere un turista, le sue motivazioni, il suo identikit aiuta, dovrebbe aiutare il sistema di offerta a cercare di garantire una serie di servizi per rendere quanto più possibile un'esperienza che poi finisce online positiva in modo da far sì che il turista generi un passaparola virtuoso, ma soprattutto si riesca a generare il turismo in un'ottica di sostenibilità anche a livello di impatto delle comunità locali. Andiamo subito, come dicevamo, vi porto i primi dati che abbiamo rilevato di scenario a livello nazionale. Sotto gli occhi di tutti, siamo già davanti la seconda estate che va a gonfie vele, perlomeno per le imprese ricettive alberghiere, ma anche per gli alloggi in affitto. Noi abbiamo intervistato oltre 2.000 imprese alberghiere ed extra alberghiere sul territorio nazionale a settembre, ci hanno detto che hanno avuto un'occupazione media che ha sfiorato la piena occupazione nel mese di agosto, comunque intorno all'80% da giugno a settembre. Ovviamente, ripeto, alle volte i dati sembra che ci dicano un po' delle cose scontate, ma comunque confermano, ci portano a supporto delle evidenze, quindi ovviamente stiamo parlando dei picchi nelle località di mare, la montagna estiva, ma soprattutto il mare ha tenuto e ha dato questa piena occupazione di oltre il 90%, che ha portato un po' tutti i media a gridare all'over turismo. Cioè avete letto magari su tutti i giornali, siamo pieni, abbiamo la piena occupazione. A me piace, avevo anche parlato con il dottor Alfonsieri, piace portarvi dei dati, ma subito dirvi il dato è così, vediamo anche l'altra faccia del dato. È vero, abbiamo avuto la piena occupazione, voi sapete meglio di chiunque altro, sicuramente meglio di me, che è una piena occupazione legata a tre mesi. Ne restano nove in cui le strutture al mare, nove per la montagna più o meno invernale estiva, non raggiungono il 50% di venduto. Quindi a noi piace molto l'onestà intellettuale del dato, è vero, sono usciti i comunicati, l'estate è andata benissimo, l'altra faccia della medaglia bisogna attivarsi per il famoso allungamento della stagione, la famosa destagionalizzazione che ormai è un termine noto che dagli anni 80 cerchiamo di cavalcare tutti, però è vero, è così, abbiamo la piena occupazione, ce l'abbiamo nei mesi estivi al mare, come Paese Italia ce l'abbiamo in montagna, ce l'abbiamo nelle città d'arte in autunno, ci sono tutti altri mesi che vanno, passatemi il termine brutto, riempiti, perché le imprese, sapete meglio di me, non arrivano al 50% dell'occupazione, e quindi il bilancio estivo più che positivo restano le criticità legate agli altri periodi. Vi dicevo, noi abbiamo anche nella nostra piattaforma Stendhal, sempre per il sistema delle camere di commercio, abbiamo inserito i dati del portale Airbnb, AirDNA, che può piacere o meno, ma è un fenomeno anche questo, alimentato in maniera preponderante dalla pandemia, quando si aveva l'esigenza di avere una tipologia di alloggio diverso, non troppo, a contatto con troppe persone e così via, fenomeni che conoscete benissimo, e abbiamo visto la crescita esponenziale, per cui è un fenomeno che, ripeto, può piacere o meno, ma comunque va governato, va monitorato, va regolamentato, per essere gestito nel migliore di modi, affinché appunto ci sia una ricaduta positiva sui territori e nessuno lo subisca. Stiamo parlando di un fenomeno, i soggiorni in abitazione privata registrati nel 2023 sono stati nelle marche del più 15% rispetto allo stesso periodo dell'anno prima, e stiamo parlando di un parco di 873.000 alloggi disponibili in Italia, di questi la metà nelle località balneari. Nel tra giugno e luglio, io vi ho portato questi dati che poi sicuramente verranno divulgati, quindi ecco, ci sono 15 milioni di notti prenotate in Italia, anche in questo caso, la metà nelle località di mare. Le notti prenotate nella sola regione Marche tra giugno e luglio sono state oltre 238.000, parliamo di entrate nella sola regione Marche per gli alloggi Airbnb tra giugno e luglio di 41 milioni di euro, quindi è chiaro che stiamo parlando di un fenomeno vero e proprio, il famoso fenomeno Airbnb, che ripeto sono evidenze sulle quali comunque bisogna puntare i riflettori per cercare di governare quanto è più possibile certi fenomeni piuttosto che subirli come destinazioni. Come vi dicevo, noi con le nostre indagini intervistiamo i turisti italiani e stranieri che soggiornano nelle nostre e nelle vostre destinazioni. Queste sono frutte di indagini estive, quindi le abbiamo intervistate nel periodo di picco della stagionalità. Chiediamo loro una serie di informazioni, mi ripeto, scusate, sia che abbiano dormito in albergo, sia nelle strutture ricettive extra alberghiere, nelle abitazioni private, ospiti di parenti e amici, proprio perché a noi ci interessa fotografare l'identikit del turista che vive la destinazione, non soltanto di coloro che alloggiano in determinate strutture, ma anche chi va ospite in seconda casa, perché comunque genera un movimento economico sul territorio, ha delle aspettative, soffrisce di alcuni servizi, fa delle attività. Per noi capire perché il turista sceglie le destinazioni italiane, sia che sia italiano che straniero, quali sono le attività che fa, quanto spende una volta arrivato sul territorio al di là dell'alloggio e della ristorazione, quindi veramente anche in edicola, in farmacia, nei supermercati, ci ha aiutato da oltre vent'anni appunto a puntare quella famosa lente di ingrandimento che vi dicevo. Noi vent'anni fa avevamo rilevato, vi porto questo esempio banalissimo e però ha la sua potenza, che l'enogastronomia si affacciava tra le motivazioni dei turisti, cioè i turisti stranieri ci iniziavano a scegliere una piccola percentuale solo ed esclusivamente non per venire al mare o in città a vedere il Colosseo, per degustare i nostri prodotti tipici in alcune determinate località. è diventata una delle motivazioni preponderanti, poi in vent'anni adesso si stanno affacciando sullo scenario motivazioni nuove che vale la pena monitorare. Abbiamo chiesto, è ovvio che tra i prodotti hard dell'Italia c'è la cultura e le ricchezze del patrimonio naturalistico, quindi il mare, la montagna, questo ripeto lo sappiamo benissimo, questo la fa da padrona, però pensate che prima, se fino a qualche anno fa abbiamo portato un cambiamento dal 2012 ad oggi, per capire perché ci scelgono. La motivazione principale, cioè scelgo l'Italia perché è passata la cultura dal settimo posto del 2012 alla prima posizione dello scorso anno, quindi anche qui non ci scelgono soltanto per rilassarsi al mare, la cultura la fa da padrona sia in estate che in inverno. Ripeto, queste sono interviste fatte in estate, quindi pensate alla potenza ormai di certe motivazioni, no? Cioè mi muovo, investo i miei soldi ma voglio vivere un'esperienza unica a contatto. Al secondo posto è passata le bellezze naturalistiche, quindi la necessità sempre più viva da parte dei turisti, sia italiani che stranieri, sia giovani che meno giovani, di fare delle vacanze nelle aree protette, nelle aree interne, per poter vivere a contatto con la natura. Si sta prendendo piede, questo lo vediamo in tanti studi che facciamo, anche su altri territori, oggi qui erano troppi dati da portare, però è chiaro che vi posso sicuramente dire che prende piede il turismo slow, i cammini, il cicloturismo. Le persone hanno desiderio di fare vacanze, per così dire, esperienze esclusive, uniche, ma comunque a contatto sempre di più con la natura, non in luoghi affollati. La natura è intesa anche come aree interne delle numerevoli regioni che abbiamo, soprattutto parlo, come nel vostro caso, delle marche, chi più meglio di voi. E anche nella ricchezza del patrimonio culturale, scusate, un aspetto fondamentale che avevo dimenticato di dire, qui non ci sono solo le grandi città, qui ci sono i famosi piccoli borghi, che diventano sempre più una motivazione di viaggio e una scelta nel turista. Quindi, ripeto, c'è il fenomeno che proprio il turista vuole vivere un'esperienza unica a contatto con le comunità locali, vuole fare la vita che si fa nelle località italiane, lo stile di vita italiano, quello appunto del, non della vita frenetica o appunto delle località dove possiamo vedere tantissimi turisti come le grandi città, anche quello, ma vi garantisco che c'è tutta un'altra fetta di turisti italiani e stranieri, anche stranieri che sono quelli sui quali vi invito insomma a puntare la lente perché sono i famosi altospendenti, che sono sempre più alla ricerca di vivere esperienze con le comunità locali, in piccoli borghi, in aree protette. Quindi sì, è vero e lo sappiamo tutti che il grosso delle nostre destinazioni è il mare, la montagna, che comunque convoiono e prendono il 50% della domanda, così come è vero che c'è un altro 50% che si sta spostando, anche se in piccole percentuali, ma sui quali, su questi turisti vale la pena capire quali servizi una destinazione può attivare per soddisfare le loro richieste e farli ritornare. Noi chiediamo la loro età, per cui ci troviamo davanti un nuovo target della domanda turistica, che come potete vedere, questi sono dati 2023, perché avevamo tutto l'anno, noi abbiamo registrato secondo le nostre stime, sia in strutture ricettive che in abitazioni private, 852 milioni di presenze sul territorio italiano. Il 41% è dato dai millennial, cioè i turisti tra i 28 e i 42 anni, la cosiddetta generazione Y, c'è un altro 30% che è dato dalla generazione X, quindi ci troviamo davanti, e lo dobbiamo sapere come territori, come enti, ma soprattutto come imprese, ci troviamo davanti due grandi poli verso i quali dobbiamo rivolgere i nostri servizi, le nostre attività per attirare e soddisfare le loro richieste, i giovani e giovanissimi e gli adulti, che mi permetto di dire in maniera banale, diventeranno sempre più adulti, hanno una grande capacità di spesa rispetto al resto e avranno necessità di servizi, e qui mi collego al tema fondamentale, non è un caso che poi i temi che si affronteranno in questa giornata importante sono proprio legati a queste tematiche, mi allaccia il tema dell'accessibilità. Abbiamo davanti degli adulti e non necessariamente, quando si parla di accessibilità devo pensare a una destinazione o a un'impresa che abbia il passaggio per i diversamente abili, no, si parla di un'accessibilità a 360 gradi, si parla di persone che tra dieci anni avranno 60 e 70 anni, prevalentemente la generazione X riguarda il target del turista italiano, che quando andrà in vacanza avrà bisogno di una serie di comfort che rientrano nell'accessibilità, avrà bisogni alimentari specifici, avrà bisogno non soltanto del transfero di chi gli porti la valigia, ma di una serie di servizi che più li rendiamo appetibili sul territorio, più ci distinguiamo per essere una destinazione accessibile. D'altro canto avremo i giovani e giovanissimi, prevalentemente stranieri, che vogliono vivere, come potete vedere, qui abbiamo riportato le domande che facciamo, quindi noi sappiamo hanno un'elevata scolarizzazione, ora parlo dei millennial, quindi dei giovani che vanno tra i 28 e i 42 anni, viaggiano prevalentemente alla ricerca di esperienze emozionali e, badate bene, mostrano particolare sensibilità ai temi della sostenibilità, intesa come non solo natura, ma anche una possibilità di vivere a contatto con le comunità locali, non vogliono fare vacanze, esperienze in luoghi affollatissimi, ognuno di loro paradossalmente vuole vivere un'esperienza unica da poter postare online, per cui più la destinazione mette al centro della propria attenzione, non voglio dire in maniera ambiziosa al centro delle proprie politiche di pianificazione, ma comunque bisogna essere molto attenti, perché davanti, nei prossimi anni, abbiamo due tipi di turisti, gli adulti, prevalentemente italiani, i giovani e giovanissimi, prevalentemente stranieri, se verso alcuni dobbiamo guardare all'accessibilità, verso altri all'innovazione e alla sostenibilità, perché questi sono il loro desiderata, appunto per pianificare quelle che possono essere le nostre strategie future. I giovani utilizzano il web, mi sembra anche molto banale dirlo, ma lo risottolineiamo, dal momento in cui iniziano a pensare alla vacanza, è il web a farla da padrona per informarsi, pianificare, vivere il territorio, scaricando le app dove andare a mangiare, a dormire, dove andare al museo, che borgo visitare, fino a recensire la propria vacanza quando torna a casa e diventare quindi generatore di passaparola, si spera positivo, no? Per generare di nuovo il ritorno, quindi soddisfare, costruire un'offerta che soddisfi le loro aspettative, le loro desiderate, ci porta comunque una promozione, sempre con un occhio a quella che è poi la sostenibilità, l'impatto che possiamo reggere, ad una promozione virtuosa, un passaparola virtuoso online. Qui abbiamo portato dei dati relativi al peso economico che hanno avuto nel 2023 questi millennial in Italia, no? Parliamo di 348 milioni di presenze, di 34 miliardi di euro lasciato sui territori e qui sono esclusi alloggi e ristorazione, scusatemi, 19 miliardi di euro dai quali abbiamo esclusi alloggi e ristorazione, quindi comunque parliamo proprio di tutta la spesa, mi ripeto, edicole, farmacie, supermercati, musei, tutte le categorie merceologiche sono qui. Noi chiediamo loro proprio, rintervistiamo che abbiano dormito pernottato almeno due notti, in estate in questo caso, e chiediamo loro dove, quanto hanno speso e in quali categorie merceologiche, proprio per avere il quadro. Poi sempre tornando ai millennial, qui vi portiamo, abbiamo chiesto loro le motivazioni, quello che vi avevo anticipato, senza i dati alla mano, ma questi poi li potete avere tutti, che sono appunto i giovani viaggiano, è vero per la cultura, ma guardate, siamo il 23%, ci sceglie per le nostre ricchezze naturali, legate proprio alle aree verdi, alle aree interne. Ci scelgono anche per vedere un posto nuovo, quindi sicuramente anche qui dobbiamo fare attenzione a queste leve, cioè non vogliono vedere i soliti posti ormai noti e stranoti, vogliono vedere posti nuovi e questa sicuramente è una tendenza che possiamo cavalcare come regione, vogliono ovviamente il 13% sceglie per i divertimenti e per gli interessi enogastronomici, poi ci sono tante piccole percentuali, piccoli fari, che però come vi dicevo prima, anche l'enogastronomia era una percentuale minima, vent'anni fa è diventata quasi una motivazione vera e propria, per cui insomma anche assistere a un evento, praticare sport, lo stile di vita italiano, quindi la comunità locale ospitante, ci sono tutte queste motivazioni che ci hanno indicato le persone intervistate, ci scelgono per questi motivi. Come vi dicevo prima, noi abbiamo, calcolando il peso delle presenze, come potete vedere il 40% delle presenze in Cino, le registriamo nelle città d'arte, sia le grandi città che i centri, passatemi il termine minori, non in senso lato ovviamente, più piccole, il 27% delle presenze è stato registrato nelle località di mare, il 17% in montagna, quindi quello che dicevo prima, è ovvio che i prodotti hard non è che ce lo dobbiamo nascondere, lo sappiamo benissimo, sono mare e città, le grandi città d'arte, però dobbiamo, ripeto, per cercare di andarci ad inserire in una nuova offerta, per cercare di intercettare nuovi target e nuovi mercati che come vedete spostano l'attenzione verso la natura, verso la sostenibilità, vale la pena ricordare anche che qualcosa si sta muovendo. Qui vi abbiamo riportato alcuni dati sempre relativi a quegli 800 milioni di presenze per farvi vedere quanto è importante il peso economico suddiviso tra italiani e stranieri, quindi se il giro d'affari generato dai turisti in Italia, sia italiani che stranieri di coloro i quali abbiamo intervistato, ha superato gli 84 miliardi di euro, di questi 40 miliardi, coerentemente con il numero di presenze, sono stati spesi nelle città d'arte, poi nel mare, nella montagna, ma guardate anche nella natura, cioè quindi questi poi sono tutti i dati che vi potete studiare con calma, vi possono essere sicuramente da spunto, quindi è vero che anche qui si conferma come prodotto di punta sia in termini di presenze che in termini di soldi generati, di giro d'affari generato, indubbiamente prodotti hard come città e mare e montagna, ma comunque iniziano a diglombare molti soldi ad accogliere presenze, si sposta l'attenzione verso la natura e altri territori, lago, terme. Abbiamo portato dei dati freschissimi, noi abbiamo realizzato l'osservatorio per l'Union Camere Marche, per tutto il sistema camerale locale, che abbiamo qui portato oggi perché ripeto, a noi rilevare i dati e portarli all'attenzione di aule come le vostre ci riempie, vi fa onore, l'interesse verso il dato, ripeto, ringrazio per l'invito e soprattutto ci piace potervi dare i dati un po' in anteprima che riguardano proprio il vostro territorio. Un po' per entrare nel view, ma di cosa stiamo parlando relativamente alle Marche? Le Marche segue l'andamento medio, quindi possiamo parlare di queste macrotendenze anche nel territorio della regione Marche, fermo restando il potere forte di alcuni prodotti come il mare. Guardate che abbiamo avuto in quest'estate una spesa media dei turisti sul territorio di 77 euro, in linea con la media nazionale. Una spesa media per l'alloggio giornaliera a persona, qui sono inclusi, ripeto, gli alloggi privati, l'ospitalità ai parenti e amici, di 84 euro, meno rispetto alla media Italia, anche di 97 euro. Quattro turisti su dieci viaggiano in coppia senza bambini, quindi mentre fino a qualche tempo fa, ripeto, governavano un po' la scena, le famiglie in estate che vanno al mare, si affacciano le coppie, per cui anche qui ricalca l'andamento e quei fenomeni di cui abbiamo parlato. Il 37,5% appartiene alla famosa generazione Y, della quale vi avevo parlato su. Questi sono dati dell'estate 2024, quindi rilevati e elaborati a settembre. Quali sono i canali di comunicazione che influiscono sulla scelta della destinazione? Gli abbiamo chiesto dove ci avete trovato. Per quanto riguarda le marche, anche un po' più rispetto all'Italia, il 53% sceglie la vacanza e viene influenzato online, l'abbiamo visto. Il 26% torna nelle marche e è tornato nell'estate 2024 perché ha avuto una precedente esperienza personale positiva, quindi questo denota ovviamente la capacità di fidelizzazione poi della destinazione della regione Marche. Il passaparola è il 19%, però ecco, se fino a dieci anni fa ovviamente il passaparola era al primo posto tra i canali di comunicazione, oggi internet ed in particolare per chi dice internet prevalgono i social network, quindi ripeto i turisti ci cercano, ci scelgono e ci vogliono trovare online, quindi anche qui diciamo che un'altra delle parole d'ordine è l'innovazione, altrimenti non esistiamo. Ripeto, alcune cose possono piacersi o meno, ma sono fenomeni con i quali dobbiamo fare i conti. Questo invece, ci tengo a dirlo, non avevamo ancora pronti i dati, perché noi chiediamo anche le attività che i turisti fanno dell'estate 2024, però anche lo scorso anno, sono diversi anni che facciamo l'osservatorio per l'Union Camera e Marche, ci piaceva, mi piaceva portarvi questi dati riguardo alle attività svolte, perché, e questi quindi sono relativi all'estate 2023, però per farvi capire un po' le macro tendenze, e cioè è vero che la motivazione principale può essere mare, città, natura, però è importante, noi chiediamo anche le attività, una volta che le abbiamo intercettate, una volta che vengono sul posto, poi fruiscono del territorio in maniera attiva a 360 gradi. Questi sono dati che devono servire veramente da supporto a capire quali sono le attività, gli eventi, i servizi che io posso strutturare, perché il turista ha voglia di vivere il territorio, più eventi, io dico eventi ma non intendo l'evento in sé, più possibilità di fruizioni del territorio, noi costruiamo anche l'esperienza a contatto con le comunità locali, nel verde, nella visita presso alcune città piuttosto che altre, sono sicuramente più occasioni di consumo costruiamo per questi turisti, più riusciamo a fargli vivere un'esperienza unica, quella che loro cercano. Abbiamo chiesto che cosa fanno durante la vacanza, quelli che vedete a sinistra, ho cancellato per sbaglio c'era l'iconcina Italia, il 35,4% è la media nazionale, quelli che vedete nell'altra colonnina sono la media delle marche, quindi come potete vedere, ad esempio partecipano a gite ed escursioni, quindi è ovvio al di là della località che scelgo per soggiornare, oltre la metà poi si sposta a scoprire il resto del territorio. Il 24,3% fa attività sportive contro una media Italia del 15,8%, anche questo è molto importante per attrarre questi target che vanno sempre più alla ricerca di slow tourism, quindi di cicloturismo, di cammini, di passeggiate o di sport particolari. Degustano i prodotti locali, il 20% degusta i prodotti, le eccellenze no gastronomiche, il 12% in linea con la media Italia assiste ad eventi e l'11% anche qui in linea con la media Italia si dedica durante la vacanza alla visita dei borghi, quindi ripeto questi sono dati dell'estate 2023 ma ci faceva comunque piacere portare all'attenzione del tavolo oggi perché ci apriva un po' di spie su quelle che sono, quelle attività che ci aiutano un po' a destagionalizzare, ad allungare la stagione, quindi insomma mi faceva piacere portarle alla vostra attenzione. Questi sono, quelli che avete visto, sono i dati frutti delle indagini dirette, telefoniche alle imprese e dirette proprio face to face ai turisti che abbiamo realizzato sia a livello nazionale che per le marche, per Union Camere Marche e per le Camere di Commercio della Regione. Attualmente come vi dicevo abbiamo attivato due nuovi strumenti di indagini, la Location Intelligence che è un sistema di tracciamento delle app sui telefonini che profila il turista tipo, ci ha permesso, questi sono dati aggiornatissimi, ci permette di rilevare quanti turisti sono presenti nei picchi, quindi a Pasqua, in estate e a Natale, nelle località italiane, scendendo per alcuni casi nel dettaglio comunale e questi turisti dove sono, che cosa sono, cosa fanno e questo è uno strumento che noi chiamiamo di Location Intelligence. Qui abbiamo riportato alcuni dati per farvi vedere un po' la potenza, ovviamente non abbiamo potuto elaborare molto ma oltre 32 milioni di turisti si sono registrati in Italia nell'estate 2024, in località di mare, quindi l'occupazione che abbiamo visto su, mi permetto di fare un passo indietro, era nelle strutture ricettive alberghiere. Qui sono proprio i flussi che vengono registrati al di là di dove dormano in un determinato territorio e che non sono residenti ovviamente. Di questi quasi 742 mila nelle Marche, era agosto, l'86% al mare. Oltre i due terzi di turisti rilevati nelle Marche nel corso dell'estate si sono concentrati, sono stati rilevati dal tracciamento della telefonia a Pesaro, San Benetto e il Tronto, Senigalli e Ancona. Ancona è il comune con la quota più alta di turisti stranieri sul totale, 32% contro una media regionale del 17%. E poi abbiamo fatto degli incroci per far vedere un po', diciamo che per noi sono importanti questi strumenti perché ci permettono veramente di capire chi ci visita e come tarare i nostri servizi e la nostra offerta, per soddisfarli al meglio. Anche qui ritorna che i tre comuni con la quota più alta di turisti nella fascia d'età 18-24 sono stati Cupra Marittima, Grotta Mare e Portore Canati. Civita Nova Marche è uno dei comuni in cui maggiormente cresce il numero di turisti rilevati rispetto all'estate 2023. Ora noi abbiamo usato molto perché non avevamo solitamente prima di dare il dato lo condividiamo anche con gli enti, con le istituzioni per vedere se ovviamente vi torna, perché ripeto, torna a voi che state sul territorio, perché la location siamo in fase sperimentale, però comunque ci faceva piacere, ripeto, in maniera del tutto operativa, darvi questi primi spunti, questi primi dati freschissimi sull'estate 2024. Questo è lo strumento di Location Intelligence e quindi con questo strumento chiudiamo il lato della domanda, quindi tutto ciò che era lato i turisti che visitano le nostre destinazioni in Italia, Marche e fino a scendere al dettaglio provinciale. Ho portato dei dati, qui magari andremo un po' più veloce se volete, sulle imprese turistiche, perché è normale che in quanto rappresentanti del sistema camerale ci faceva piacere anche ridare un po' lo scenario di come sta il sistema di offerta. Prendendo in considerazione le imprese turistiche attive in Italia, vediamo che quelle destinate al turismo sono oltre 552 mila, comunque rappresentano il 10% del totale economia. Il valore aggiunto del comparto dei servizi alloggi e ristorazioni ci conferma che il turismo è un settore che non ha subito particolari problematiche negli ultimi anni e che rappresenta il 4% del valore aggiunto. Lo ha rappresentato nel 2023 ritornando all'anno record del 2019, come potete vedere c'è il picco in giù legato all'anno della pandemia. Quello che ci faceva piacere portare anche alla vostra attenzione, che abbiamo presentato anche la giornata del turismo nazionale a marzo, è il fatto che analizzando i dati di Infocamere abbiamo visto che negli ultimi 10 anni il resto dell'economia ha subito una flessione del 4%, nel complesso Italia le imprese turistiche hanno registrato un aumento del più 11%. Sono tutti dati ovviamente nei quali bisognerebbe entrare nel dettaglio per capire, no? Perché sicuramente magari qualche operatore potrebbe alzare la mano e dire in realtà la situazione qui non è proprio così rosa, indubbiamente, questo vi ripeto è un panorama Italia, quindi che comunque ci fa vedere un settore che tiene rispetto a tanti altri settori sul quale vale la pena continuare ad investire. Abbiamo tenuto grazie agli investimenti dei giovani, sono cresciuti le imprese giovanili, le imprese femminili e le imprese straniere. In ultimo, lato offerta, abbiamo chiesto alle nostre imprese, qui gliel'abbiamo chiesto attraverso l'indagine telefonica che facciamo, perché per noi, al centro della nostra attenzione, sono anche le informazioni qualitative, al di là dell'occupazione delle vendite camere che ci restituiscono le imprese del ricettivo, e cioè, dove state puntando la lente? Quali sono i vostri strumenti per far sì che si stia gestendo e pianificando il turismo nel migliore dei modi? Ci fa piacere, sette imprese turistiche su dieci puntano sulle competenze, cioè le competenze richieste dalle imprese per catturare esigenze dei turisti e delle comunità ospitanti si fondano su tre elementi chiavi. Le imprese ci hanno detto che ritengono sempre più fondamentale trovare, assumere, personale con competenze green, quindi anche qui torna il tema della sostenibilità, che devono essere informati non solo su come fare la raccolta differenziata per capirci. Cercano competenze social, quindi quella accessibilità della quale vi parlavo prima a 360 gradi, non soltanto legata a persone con particolari esigenze. E ovviamente ritengono indispensabili, il 32,6%, le competenze digital, quindi tutto ciò che è legato all'innovazione. Per cui anche le imprese puntano il dito, puntano l'attenzione verso questo. C'è, hanno capito che per soddisfare una domanda, oltre a mettersi insieme tre imprese a cercare di costruire una destinazione, fondamentale è anche puntare sulle competenze dei giovani o meno giovani che entrano a far parte, a lavorare nella nostra impresa, che non si può più pensare che prendo solo lo stagionale, perché insomma con poche competenze, le competenze devono rientrare al centro dell'attenzione se vogliamo veramente soddisfare il turista sempre più esigente che ci viene a visitare. Con questo io ho chiuso il panorama di domande offerta nazionale e abbiamo visto insomma con alcune verticali sulla regione Marche. Mi permetto di dire prima di darvi quest'ultima slide che come avete potuto vedere dai dati, ripeto, voi conoscete il territorio e le vostre realtà meglio di chiunque altro. Noi non abbiamo l'ambizione con i dati di dirvi soltanto come stanno andando le cose perché lo sapete voi. Sicuramente i dati visti nell'insieme ci aiutano a puntare la luce su alcuni fenomeni, alcune tendenze che vanno gestite, governate e sui quali vanno puntate i riflettori. Abbiamo visto che ormai si va alla ricerca di sostenibilità, accessibilità e innovazioni ed è per questo che diciamo i dati confermano l'importanza su queste tre parole chiave che sono anche frutto poi dell'incontro di oggi, sono al centro dell'incontro di oggi ma proprio perché come avete potuto vedere sia lato domanda che lato offerta sono tre aspetti che non possono essere più ignorati ma una sostenibilità non solo intesa come natura ma anche l'impatto con le comunità locali cioè affinché non riusciamo a governare, a destagionalizzare, a proporci come destinazione che fa vivere delle esperienze uniche nel verde non solo al mare. Dobbiamo veramente avere in mente come avete visto dai dati che i turisti vanno sempre più alla ricerca di esperienze uniche e sostenibili che hanno bisogno i giovani da un lato e le persone più adulte dall'altro di una destinazione accessibile che sia un'alimentazione sana o che sia veramente una struttura adeguata ma una destinazione accessibile a 360 gradi e non si può prescindere in alcun modo dall'innovazione che parte dal momento in cui penso il viaggio fino al momento in cui lo recensisco da lato domanda e lato offerta per esistere devo essere online e saper gestire tutti questi social affinché ritornino in maniera positiva queste promozioni. Io questo avrei concluso. Vi porto solo un ultimo esempio di quello che abbiamo fatto nella regione Umbria per dirvi che stiamo puntando verso nuovi sistemi di indagine che vanno a vedere anche il tracciamento delle carte di credito. Abbiamo monitorato Umbria Jets lo scorso anno, il tracciamento di Mastercard e questo ci ha permesso, ha permesso alla regione Umbria, all'Union Camere Umbria, alle Camere di Commercio di capire quanto veniva speso in quella settimana, quanto era l'aumento ed era altissimo rispetto ai dieci giorni precedenti l'evento e dieci giorni successivi, quali sono state le categorie merceologiche che ne hanno tratto il maggior vantaggio. Abbiamo fatto una mappa di dove si è speso di più e dove si è speso di meno rispetto al luogo dove si svolgeva l'evento e siamo riusciti soprattutto a dare indicazioni su quello che era il palinsesto, cioè come potete vedere qui ci sono proprio i cantanti giorno per giorno e attraverso il tracciamento delle carte di credito abbiamo potuto far vedere quando c'era più afflusso e più spesa, non tanto più afflusso, quanto è stato speso di più e quanto è stato speso di meno. Tutto questo per dirvi che per noi il dato è fondamentale ma non soltanto rilevarlo, è veramente una lettura strategica, stiamo cercando di mettere insieme una mole di... perché innovative non devono essere solo le destinazioni ma anche la metodologia d'indagine, affinché ci aiuti il più possibile, aiuti voi operatori, le istituzioni, gli enti, le università, insomma a capire dove stiamo andando e a governare quanto più possibile il fenomeno. Quindi diciamo è un'innovazione che riguarda anche noi nelle nostre metodologie e quindi diciamo vi abbiamo fatto questa carrellata di dati, spero che vi siano stati utili, che mette al centro dell'attenzione le tematiche fondamentali che voi oggi andrete ad affrontare, sostenibilità, accessibilità e innovazione. Grazie. Ringraziamo Antonella Fiorelli di Isnart che invitiamo magari a rimanere... Grazie. ...a rimanere con noi almeno finché saremo in sessione plenaria perché ci tengo a sottolineare un aspetto. Ha fatto una rapidissima ovviamente carrellata di informazioni, ha fornito dei dati, ma ha comunque mostrato una delle cose più importanti che noi stiamo prevedendo in questa attività, ovvero sia i nostri fili conduttori che poi per noi saranno ovviamente anche i focus del lavoro che faremo. Nel percorso che lei ha descritto, ha descritto attività che riguardano alla sostenibilità ambientale, al turismo sostenibile, all'accessibilità e all'innovazione sotto ogni forma. Sono le tre tematiche che noi andremo ad analizzare oggi attraverso un lavoro analitico e di laboratorio. A me spetta ovviamente il compito di spiegarvi cosa faremo oggi insieme. Ribadisco, i temi sono sostenibilità, accessibilità e innovazione. Ognuno di questi ha una risultanza da un punto di vista ovviamente di quello che è la nuova frontiera del turismo in generale e saranno, o perlomeno speriamo che possano essere, i pilastri della nostra destination management organization. Quindi sugli aspetti di sostenibilità parliamo ovviamente di tutte le attività che si possono fare nel turismo che riguardano la sostenibilità ambientale in un settore che potrebbe essere assolutamente di grande qualità sotto questo aspetto, ma che potrebbe invece essere tutto il contrario, cioè assolutamente poco sostenibile e poco rilevante. Quando parliamo di sostenibilità, la sostenibilità non è solo ambientale, ma anche sociale ed economica. Poi parleremo di accessibilità e questo non è ristretto e vincolato al solo ambito dell'accessibilità per le disabilità gravi, ma noi parliamo di accessibilità sotto tutti i punti di vista dalla famiglia che ha delle difficoltà nel muoversi in una città perché le strade hanno cattive condizioni e quindi i passeggini oppure l'impossibilità di accedere a un parco giochi, ha la disabilità e lo diceva bene anche la Fiorilli, ha l'accessibilità legata per esempio a chi fra qualche anno avrà maggiori problemi legati alla propria motorietà. Quindi parliamo in questo senso. Tra l'altro sull'accessibilità come sulla sostenibilità, ma poi in generale si rovescia un po' il paradigma che è sempre stato vissuto soprattutto per località balneari come quella di San Benedetto, dove nel periodo estivo il cittadino, cioè il residente, colui che vive 12 mesi l'anno a San Benedetto, si ferma per lasciare lo spazio agli operatori, mettiamola così se volete, agli operatori e ai turisti perché comunque c'è una ricerca di un possibile miglioramento delle condizioni del turista. L'azione che faremo noi probabilmente su queste tre tematiche non solo produrrà servizi e vantaggi al turista e miglioramento delle condizioni dei operatori turistici, ma poi direttamente ci sarà un vantaggio anche per i cittadini, perché tutta una serie di servizi che noi vorremmo implementare nella DMO saranno servizi che rimangono tutto l'anno, anche perché questo è un tavolo che sta cercando in tutte le maniere e, ripeto, la ricito di nuovo, Antonella Fiorilli ce ne ha parlato, parliamo principalmente di un turismo che tende ad allargarsi ai 12 mesi l'anno, cioè cercare di fare turismo tutto l'anno. Forse noi, San Benedetto, è la nostra zona, ma Piceno no e nemmeno le Marche perché sono delle città d'arte molto importanti, però tutti abbiamo la possibilità di mostrarci come città che fa turismo anche attraverso la cultura, oltre che alla natura, come è stato detto, e oltre a tutti gli eventi che normalmente abbiamo...